e si passa una bella fiat tipo 1.4 turbo benzina e gpl auto molto ben tenuta è un maggio 2017 euro 6b un'auto estremamente ecologica che circola sempre in questo caso si parla di 120 cavalli 88 kilowatt guardate che bella allora auto molto spaziosa adatta veramente a tutti eccola qua allora intanto il vano carico molto importante per questo segmento come si può notare i sedili posteriori sono abbattibili sdoppiabili con attacchi isofix proprio pensati anche alla famiglia e ai più piccoli sedili veramente impeccabili 5 posti eccola qui sedili anche regolabili in in altezza come ovviamente lo sterzo auto con comandi al volante e cruise control abbassiamo un attimo la radio perfetto ovviamente siti per ammorbidire lo sterzo climatizzatore tutti i vari ingressi per audio 6 marce che ci piace molto i chilometri eccola qua chilometri 102.700 come si può notare la doppia alimentazione con le sue con i suoi indicatori auto davvero confortevole economica ecologica quindi se cercate un'auto come questa non fatevela scappare e veniteci a trovare qui a 6 marce dove potrete poi ovviamente visionare anche altro una delle nostre auto disponibili ovviamente qui siamo nella sede di Vaprio d'Agonia dove possiamo notare anche tutti i veicoli commerciali ampia scelta e anche concessionaria v moto super soco per tutto quello che riguarda scooter e moto elettriche